Avvocato Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signor Primo Presidente, signor Procuratore Generale, signor Ministro Guarda Sigilli, autorità, magistrati e colleghi. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che vadano ormai individuati alcuni punti fermi di indirizzo culturale prima ancora che tecnico. La domanda a cui dobbiamo tutti rispondere come operatori del diritto e se considerare come centrare la giurisdizione, naturalmente efficiente, e come non sacrificabile il diritto di accesso al giudice da parte di ogni cittadino. Per l'Avvocatura la risposta deve essere positiva, dunque vanno trovate quelle soluzioni che evitano di incoraggiare un percorso di privatizzazione della giustizia o che ne selezionino l'accesso attraverso il censo, come in parte sta accadendo in questo momento. Ma va anche riconosciuto a chiare lettere come non sia vero che il nostro sistema processuale sia inadeguato, sia quello civile che quello penale, anche se ci vede nelle famose classifiche mondiali dietro a paesi in alcuni casi ancora considerati del terzo mondo. La giurisdizione italiana penale civile è una giurisdizione di grandissima qualità, che riconosce le necessarie garanzie alle parti e anche al giudice per giungere a una decisione la più possibile equa e giusta. E francamente non so quanti di noi preferirebbero farsi giudicare in molti di quei paesi che ci sopravvanzano in classifica. Il processo civile penale deve avere una durata adeguata per giungere alla corretta soluzione in fatto e in diritto. Efficientismo e risparmio a tutti i costi, che sono cosa altra e ben diversa dalla doverosa eliminazione degli sprechi, non possono travolgere il campo dei diritti fondamentali, come quello dell'accesso alla giurisdizione e il diritto di difesa. E lo stesso deve valere per altri diritti non rinunciabili, come il diritto alla salute piuttosto che all'istruzione. Bisogna abbandonare l'idea che le democrazie solide e avanzate si misurino solo in PIL, piuttosto che nel grado di equità sociale, così come bisogna rinunciare all'illusione che sorbiciare gradi di giudizio, termini processuali o prevedere calendari procedimentali virtuali possa essere una soluzione. Certo non tocca agli Avvocati decidere il luogo della politica se e come investire risorse economiche nel nostro sistema giustizia, anche se appare evidente a tutti come a costo zero non si possa migliorare nessuno strumento, ma dobbiamo dare atto a questo Ministro di aver dimostrato di essere assolutamente consapevole della necessità di investimenti. Allora quello che l'Avvocatura può fare è assumersi le proprie responsabilità e proprio per salvare il diritto ad un accesso efficace e democratico al giudice, gli Avvocati si stanno impegnando e sempre più dovranno impegnarsi nell'ottimizzazione anche tecnica degli strumenti alternativi al processo civile, diventandone protagonisti assoluti. Dovranno curare la propria odontologia, competenza e specializzazione professionale per garantire alla giuridizione un apporto tecnico corretto e di grande qualità. Dovranno lavorare alla ricerca di soluzioni assieme alla magistratura da mettere a disposizione del Paese. La firma dei protocolli tra il Consiglio Nazionale Forense e la Corte di Cassazione di questo dicemme in tema di ricorsi di fronte alla stessa, che ha affrontato il tema della sinteticità degli atti e dell'autosufficienza, è un segnale, un precedente importante, che so essere stato colto anche dal Ministro e che può aprire la via a percorsi di analisi e risoluzioni assolutamente operative ed efficaci, in alternativa a discussioni infruttuose, spesso a tal punto accademiche, da rivelarsi un freno a ogni esito concreto. Non sono professore, sono avvocato, primo Presidente. Però i governi e la politica dovranno favorire sempre più il rafforzamento del ruolo dell'avvocatura nel mondo della giuridizione, così come in quello delle soluzioni alternative al processo, così come dovranno riconoscere la funzione che la legge professionale riconosce ai Consigli dell'Ordine, che lungi dall'essere organismi autoreferenziali, sono divenuti insostituibili centri di sostegno alla giuridizione e agli utenti del sistema giustizia, non di rado supplendo generosamente alle carenze dello Stato. Istituti come la negoziazione assistita, la mediazione e gli arbitrati, che tra l'altro trovano proprio nei Consigli dell'Ordine la loro serie di garanzia, dovranno sempre più essere incentivati, non solo economicamente, ma anche attraverso l'ampliamento delle facoltà per l'avvocato di autentica della sottoscrizione a verbali di mediazione e accordi di negoziazione, con conseguente trascribibilità degli stessi. L'inserimento tale materia di oggetto di negoziazione di quella del lavoro, l'aumento delle competenze per le Camere arbitrali degli ordini. Nel campo delle esecuzioni la facoltà per l'avvocato di eseguire in proprio il pignoramento laddove non sia previsto l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso il debitore, nonché l'accesso alle banche date tramite i Consigli dell'Ordine, così come potranno promuoversi i percorsi che privilegino la competenza dell'avvocato in quanto giurista nella copertura di ruoli come quello di magistrato onorario o all'interno della volontaria giuridizione. Affinché il cittadino riacquisti fiducia nella giustizia, lo Stato non deve correre il rischio di delegittimare i protagonisti, quali sono gli avvocati, in nome di presunti valori mercatisti. Sacrificare la loro alta funzione a concezioni meramente economiche, fare del mondo dei servizi legali un supermercato avente comunico fine il lucro con ogni mezzo, applicare la tutela dei diritti e la cultura della concorrenza a confini strettamente commerciali e di captazione di clientela, mortificare i principi normativi e deontologici di dignità e decoro è un pericolo che stiamo correndo e che va denunciato per forza e so che anche sotto questo punto di vista il Ministro ci è vicino. Avvocati e magistrati sono il motore dell'evoluzione del diritto e dei diritti e come tali vanno valorizzati e dall'incontro dei loro saperi che la tutela dei cittadini è andata sempre più evolvendo di pari passo con il correre dei tempi e il modificarsi dei costumi. La politica si affidi senza sospetto alla competenza di chi opera nei tribunali, utilizzare le loro professionalità, anche finalmente quelle dagli avvocati, negli uffici legislativi così come nelle commissioni di studio. Non possiamo permetterci di legiferare o non legiferare, depenalizzare o non depenalizzare a seconda dei sondaggi che misurano il consenso popolare o sulla spinta delle motività o dell'emergenza. Ne possiamo più permettere la spettacolarizzazione del processo penale e il protagonismo autopromozionale degli autori dello stesso, siano essi avvocati o magistrati. Non possiamo considerare il patrocino a spese dello Stato come uno spreco piuttosto che come un valore da salvaguardare e promuovere. Non possiamo condividere che si intervenga sulla legge Pinto usando la matita rossa del ragioniere anziché la penna del fine giurista. Non dobbiamo più approcciare a temi come quelli della geografia giudiziaria senza un approfondito studio di impatto da farsi territorio per territorio con il contributo degli operatori locali. Questo Consiglio nazionale forense ha in corso un dialogo davvero leale e costruttivo, sempre corretto e continuerà a essere corretto per quel che riguarda il Consiglio nazionale con il Ministro della Giustizia, con il Consiglio superiore della Magistratura e con la Suprema Corte. È un rapporto assolutamente non di maniera. Sa anche, avendoli incontrato ed ascoltato, di potersi affidare al ruolo di garante della Costituzione del nostro Presidente della Repubblica e tutto questo ci rende ottimisti per il futuro. Una società solidale che non lascia indietro nessuno e il giusto processo con il rispetto dei valori di libertà e dignità non potranno mai essere quotati in borsa, ma saranno il vero patrimonio e la vera ricchezza di una democrazia progredita, la vera eredità che noi tutti potremo lasciare ai nostri figli. Gli Avvocati, che pur si dibattono come tutti i lavoratori in un momento di gravissima crisi economica, sanno ad essere chiamati, assieme all'Administratura, per l'ennesima volta nella propria storia, a fermare il proprio ruolo di custodi dei diritti a difesa di uno Stato dei diritti e non si sottraranno all'impegno. Concludo augurando buon lavoro al nuovo Presidente della Suprema Corte e a noi tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.